oh si è caricata mi sa sai ma io non capisco se è carica o non è carica sta cazzo di buffietta e non lo so se è spenta la luce non lo so io penso che sia carica sta cazzo di buffia ma non lo so come funziona non l'ho mai ah no vedi si è molto spento è di nuovo rossa vedi che è rossa ah forse perché ma che cazzo non so prima era spenta ma si è accesa ma è spenta ma non lo so come funziona ah ah non lo so però voglio andare un attimo nel drop perché io voglio fare Call of Duty c'è Call of Duty drop cazzo eh no intanto che io faccio la live mi guardo anche il drop se permetti mi prendo mi prendo l'emblema mi prendo quello che c'è la live di Call of Duty vedi ah 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 dai dai te lo figgi muoviti muoviti che abbiamo un abbonamento però abbiamo l'XP un sacco di roba gratis abbiamo perché l'XP l'ho preso l'altro giorno poi non l'ho più usato perché non avevo l'abbonamento dai 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 che prendiamo XP su Call of Duty XP di là, XP di là, dovrebbe avere un bel po' di XP mo dai vediamo un po' che cazzo abbiamo abbiamo anche un emblema nuovo perché mi ha regalato un emblema l'altro giorno si mi ha regalato un emblema in teoria dovrei avere un emblema mo vediamo, intanto vediamo se fa questo cazzo di CD si fa, va o non va sto gioco ho appena fatto l'abbonamento di dai tempo però dovrebbe partire è certo che è partito ho fatto anche l'aggiornamento del gioco quindi del partito a forza che si fa, va o non va sto gioco e che si fa, va o non va sto gioco e che si fa, va o non va sto gioco e che si fa, va o non va sto gioco e che si fa, va o non va sto gioco e che si fa, va o non va sto gioco e che si fa, va o non va sto gioco e che si fa, va o non va sto gioco grazie a tutti minchia che bello che cazzo di emblema è che bello cazzo è questo l'emblema si l'emblema emblema ombra della marmotta ombra della marmotta che foie tutti questi emblemi poi abbiamo abbiamo il coso direi si abbiamo anche le guerra terrestre cosa l'ho messa l'ho messa niente queste qui dice che non vuole guerra terrestre però voglio provare a vedere un'altra minchia prendi tutto voglio vedere se c'ho la moneta ma è carica sta cuffia non è carica si è spenta la luce vediamo un po' le monete minchia 3 di monete 3 di monete minchia un'ora un'ora in più altri drop che sto prendendo adesso minchia sono pieno di monete oh che troia eh prendi prendi vai 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 meglio così meglio così meglio meglio certo è meglio è tutto buono tutto fabbrodo buono se come li vediamo adesso ah il battle pass sarebbe questo battle pass io devo fare questi qua verdi uno che l'ho quasi finito due tre quattro 5 e 6 che sono quasi già la metà vedi già le ho completati i pallini e poi mi regala questo personaggio qua sono già 75% e mi regala questo personaggio alla sinistra vedi si chiama re dell'olimpo vedi completa battle pass per riscatare le ricompense che praticamente dovrebbe dare questo personaggio vabbè dai andiamo dai proviamo queste cuffiette mi sembra che sono cariche e ora provo a chiamarla prima di luglio però penso che sì ma no ma sono cariche sono cariche io penso di sì penso di sì perché non mi chiamo niente per capire penso di sì perché sono cariche quindi al 100% al 100% se erano cariche ma penso di sì è carica ma si è caricata le ho caricate tutte le ho caricate al 100% dovrebbe essere vedete un po' e adesso provo a accendere come cazzo si accendono queste cuffie sono bollenti sono bollenti vediamo un po' come cazzo si accendono sì ma come si accendono eh ma come si accendono porta troia ma lo bui ah ok eh mo vediamo ah non lo so come cazzo prima le ho accendere prima le ho accendere ah eccole qui funziona mo vediamo come cazzo si mettono così ma che bello c'è anche il microfono che si sposa e si riadrizza wow lo togliamo su bluetooth wow si sono attivate le cuffie in pratica metto cuffie con microfono ah che figata vediamo un po' allora mettiamo le impostazioni audio mettiamo cuffie 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 si buah il che storia cuffie surround oh cuffie belle che figata aspetta un po' voglio provare un attimo la cosa allora queste qua mi sembra di abbassare le cose qui inalzano non so ne che se vanno penso di si boh che figata che figata minchia c'ha una potenza madonna se si sente cazzo porca vacca mamma mia bellissima bellissima pom 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 fai sentire uno scoppio madonna minchia raga ma come cazzo sono forti la madonna ah minchia si sente bene porca puttana madonna ma si sente bene madonna che era oh la cazzo che sentissi qualcosa di furbo no ho sbagliato il pulsante non me ne ricordo eh non me ne ricordo non me ne ricordo più i pulsanti è un po' che non giocavo è una settimana che non giocavo minchia come si sente bene oh vacca puttana minchia fai fai abbassare un po' eh bluetooth il nemico ha preso bravo in movimento charlie sicuro movimento che c'è laica può sentire la cuffia o alzare un po' il volume perché se mi arriva qualcuno vicino lo posso sentire minchia che figata cazzo diciamo adesso ciao hai visto che è bello senza cuffie ah senza filo senza cuffie si sono i coglioni allora abbassiamo un attimo sto microfono allora il microfono è basso ok così non sento la mia voce e il volume lo alziamo al minimo ah ma non è come ma è con me o contro di me questo ah ma non è come ah vaffanculo allora dimono prima pinguino dell'onghi oh ma pensavo che era contro di me su stronzettino eh sì pensavo che era contro di me ah che ne so l'ho visto a scendere non me lo ricordo più da tanto che non gioco più cazzo è un po' che non gioco ripeto eh ho perso un po' la mano sì è un po' che non gioco sì basciamo un po' il volume mica non riesco a regolare il volume perché lo voglio un po' alto un po' basso un po' alto un po' basso poi non sento chi mi entra in casa e chi mi suona il campanello no è troppo alto non va bene prima perché poi non capisco chi mi entra in casa se suonano il campanello eh mica è un surround poi sono talmente sonorizzate se cazzo di cuffie che allora levati perché io sono in confusione oggi zingarello va vaffanculo nooo nooo vero laica nooo vero laica nooo avrei anche la mia macchina però il nemico cattura nooo la vaffanculo ah shisho 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 ah tamasmin ah tamasmin credo eh cristina cristina zingarello vagabonde piscione dove cazzo era questo qua mi ha sparato da qualche parte ma vai a capire dove cazzo era eh vai a capire dove secondo me era qua sopra da qualche parte ho capito calma guarda che bella la mia skin attacco con mortaio alleato no poi tolgo il micro loud la voce la voce a basso alza solo il volume qui te ha detto di salire a sparar cazzo lo sparare io arrivano i cattivi ah ha preso il carrano mato ah 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 vinto l'alleato in arrivo ah 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 c'hanno rotto le gambe paesano che come si sente forte come aveva scendere da sto cazzo di comincino porca puttore ma come si sente forte salito da solo belen belen cose con noi con noi con noi ah ma io messi colore verde cazzo il colore verde avevo cambiato i colori ma già vero minchia che palle cazzo e non vincere palle fammi cambiare i colori grafica scenari minchia che palle cazzo vero cazzo e non mi ricordavo più no cazzo interfaccia del colore cazzo allora team party nemico nemico lo mettiamo si può cambiare colore capito colore mettiamo colori di base mettiamolo rosso rosso il colore rosso party team mettiamolo il team colore ma mettiamo bianco il team bianco tu facciamo faccio azzurro io mi faccio azzurro io mi faccio azzurro sì o no azzurro sì mi faccio azzurro il team bianco ok team bianco e nemici rossi dovrebbe essere così no i nemici sono rossi bello rosso si vede di più si vede di più rosso ah ma si toglie il microfono se io spengo il microfono fa pup pup se io accendo il microfono che bella ste cuffie fa pup 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 cioè attivi disattivi il microfono cioè se io il microfono lo tiro su lui fa pup pup se io il microfono lo tiro giu minchia ma che figata cazzo che figata eh minchia sballo vabbè carino pup 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 faceva così forte forte ah siete bianchi il colore bianco ho fatto vedi che colore bianco potremmo mettere un altro colore potremmo farlo giallo ma vabbè non lo stesso vabbè non lo vedo capito se quello bianco non ipotizio che sono loro non sono i nemici vabbè non lo stesso il nemico attivo il nemico preso eco abbiamo sull'obiettivo costumes stiamo sull'obiettivo alfa ho capito a di pazienza mi sto abituando i colori non rompere le palline di benenicchio le palline di benenicchio le palline di benenicchio palio di benenicchio le balline di benenicchio benenicchio conosci benenicchio e parlare di sbali che si barini no 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 le palline di benicchio no aiuto aiuto diciamo le parole di mani che noi ci parli in beninicchi i valizi di baricchia i spallucchi beninicchi beninicchi ma non per un po che fa paesano i pallini di beninucchi ma che abbiamo i cazzo e munizia 1 guardate calvani tenele morbida amica io ho aperto le munizioni sci munito per la fine cosa ci avevo il caricato un caricato a domanda un dai o però color bianco non mi piace potrà farlo via giallo cazzo nemico il team il team potrà farli bianchi i colori cazzo è potuto cambiare colore aspetta un po secondo me il colore fa schifo quello che io è interfaccia ma no no aspetta colore alleati team fai lo cambia cambia io lo valcolo metti io lo giallo a no gialli sono il team nemici sono rossi il team lo puoi fare che cazzo non sono gialli o giallo va bene giallo 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 quelli gialli sono quelli amici amiche però mi faccio giallo pure io sto punto scusa a essi che mi faccio giallo pure o no o no io mi di no perché mi devo distinguere quindi boh io sono quello azzurro ma bene facciamoci azzurri come uscela come uscela spalancato quartiere cioè spalancato quartiere scindere le guardie luciene se spalancato quartiere ma non è colpa mia non è colpa in scinde le guardie luciene si è spalancato quartiere scindere come si fa a fare la cusciolata come si fa a fare la scivolata così a che bello gialli a aiutica giallina se diventa giallino come un pad se gialla ma quella è già al giallo pal ad usia lane usia luci sei diventato giallo palido c insula c insula se giallo palido come un paloncino ma quanti siete qua siamo un pacchetto che obiettivo charlie obiettivo charlie obiettivo charlie obiettivo charlie in zone uno è un pacchetto via via scappa via arriva la polizia mamma mia mamma mia mamma mia voglio charlie 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 oh cazzo oh mamma mia che paura marone che forte ma c'è scassata wall ma ti spacca tu c'è da tu c'è zingare minchia quello mi ha spaccato a me sul zingarello 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 ma la spacchiamo qualche bello giallo 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 c'è il giallo sole giallo sole si uso la sole mio come faccio senza i te non saprei giallo figlio via via aiuto 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 mamma mia ma che spavento l'elicottero tutto esploso qua ma che ma che l'elicottero guarda cosa c'è lì movimento così non è facile che parli e poi lontano poi londana londana kiss londana 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 a una valore calvoni che nemmo e londana 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 aveva anche le belle cuffie ma non erano tanto belle aveva led ma ne ancora mi sembra con le cuffie quella con led ma mi sembra di sì non so che fin hanno fatto quella con led da qualche parte c'è ancora con le cuffie ho le rotte ma non mi ricorda vuoi vedere le cuffie con led che fin hanno fatto ah ho le rotte non mi ricordo buh sono sparito queste sono meravigliose col bluetooth minchia una figata col bluetooth è una spettacolo fammi vedere come mi stanno le cuffie ciao laika fai vedere queste cuffie come sono madonna sono un po grosse eh e beh sono cuffie da playstation sono cuffie da playstation normale eh non è che sono cuffie da però minchia guarda che figata minchia sembra di avere sembra di sembra di essere un pilota di di formula 1 entra in box entra in box primo giro entra in box va bene schumacher entra in box c'è le gomme lisce entra in box dobbiamo cambiarti il team il nostro team ti sta chiamando entra in box no non entro in box entra in box c'è le cuffie c'è le cuffie scariche entra in box che poi non posso parlarti va bene va bene sto entrando ok finisci mezzo giro rientra perché le gomme lisce sta per piovere c'è i temporali fulmini lampi eh uragani la macchina può saltare muoversi fare le capriole eh comunque muoviti eh tutto a posto va bene va bene va bene arrivo ah ok schumacher bravo bravo e io faccio il team di schumacher vedi che ci parliamo noi abbiamo le vedi che sono le cuffie di schumacher questo me l'ha regalata lui ciao e invece laica cosa fa laicchino ma che bella la mia laica ma che bella ma cosa fai mami ma cosa fai con sto musettino tutto bagnato la quetta da un bacio da un bacio tutte le mattine viene a salutarmi lei si lei è brava grazie a tutti grazie grazie pu 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 e hai sentito cosa ha fatto pu 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 e c'è da un microfono aia mi fai male scema ma cos'è fai con sto zempino ma che grosso mi spingi vuoi che sei 50 kg di cane tu eh ma cosa fai mi spingi a bimbo spingi a bimbo ah si ah si ah si ah si usiamo andiamo 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 ma che bella che bella che bella mio orso sei un orso yogi tu sei un orso yogi piano oi piano eh piano bella mia principiscina ma quanto è bella ha morso l'ho portata a lavare il mio cane no secondo me quella faccia di merda lesbica non è che ce l'ho contro le lesbiche però la stronza ha fatto male al mio cane il mio cane l'ha morsicata certo la morsicata ha fatto bene ascolta ascolta qua il mio cane il mio cane non morde nessuno oh cazzo di volume alto il mio cane se morde qualcuno c'è un motivo punto e basta wow ma cos'è il suo simbolo qui cos'è sta roba cos'è quella roba lì ma scusami un attimo che cazzo è quella roba ma che cazzo è quella roba ma non lo so che cos'è che cosa è quella faccia lì la monetina che cazzo è ah vedi che me l'hanno regalata mi hanno regalato questa faccina qua vedi ma che cazzo è livello prestigio ma cos'è quella monetina dov'è che cosa è quella che è perché è verde lui non lo so perché verde scusa verde perché verde verde perché lui verde scusa non capisco perché sottotitoli vuoi andare a prendere da bene gli hanno sparato madonna come si sente forte ah 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 pa 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 ma lo riti che c'e gente è il nostro leato come lo scelgo Tanto se muore muore lui quindi Se muore muore lui per primo quindi Stiamo prendendo delta Guarda stanno bene eh Ma si sentono le cuffie Volevo vedere Belle belle veramente Grazie Riprendetelo UAV nemico in zona Obiettivo delta al sicuro Bombardamento di precisione UAV nemico attivo UAV alleato in zona Elicottero da trasporto nemico marcato Jet beetle nemico marcato Inflessibile Uomini di turbo stile in volo Uomini di turbo stile in volo Tanto c'è in pratica durano 15 ore di durata no? Batteria Beh 15 ore è già forte Non lo so io non me ne intendo di bluetooth di cuffie Non ho mai avute io sai no? Cioè non ho mai avuto però bisogna trovare anche la garanzia di quella così le aggiustiamo Con calma no? Con calma la pazienza con la formica e la formica io l'ho mise in culo l'elefante Con calma e la pazienza con la formica io lo mise in culo Tu dici l'elefante etona L'elefante, no, l'elefante no, eh sì, l'elefante, come l'elefante, cosa c'è l'elefante, perché la farmica era piccolina, con la pazienza, la farmica, io lo mi sa in culo l'elefante Perché la farmica era piccolina, però piano 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 io l'ho messa nel culo, nel senso che la fregava Con la calma e la pazienza, la farmica, io lo mi sa in culo l'elefante, capisci, così si dice, è un detto, no? Eh, bravo film Va vaffanculo, va, zingarello Dai, cristo, dai Oh, santa barbarina Cazzo è quello che t'affina Barbaro Dai Dai, leva tu, cazzo, allora, aspettate Ma che bello Ah, non so dove è andata tu Fa' il culo Non so dove è andata tu Non so dove è andata tu Prendiamo bravo Movimento Prendiamo eco Lancio aereo d'emergenza ostile in zona Occhio, questo settore scotta Ecco sicuro Stiamo prendendo destra Il nemico guadagna terreno Non permettetegli Non permettetegli Non ammazzate Ah, fangu Ah, non l'ha presa lui l'ho presa io Ma va ammazza, chi va, stronzo È che cazzo? Lui c'è passato, non l'ha preso Zingarello Vagomodo e piccione E io l'ho preso ZINGARE 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 vangare e pisciuno ma qualche p***o che sfiga lui ci è passato tranquillo sul tronzetto è niente mica ci passo io esplodo ah beh andiamo bene io mi bello io mi bello papà io mi bello papà io mi bello io mi bello io mi bello mi bello guarda lì ma fanno ammazza ti scemoni sparti in colpa da capa esegui c operatore mentre esegui ho sblocato l'operatore forse ho sbloccato l'operatore sai ragazzi e forse sì perché c'era scritto esegui tre uccisioni operatore operatore e sì mi sembra poi non voglio dire una stronzata come l'ultima volta però non avete letto operato io l'ho letto operatore esegui tre uccisioni operatore e che cazzo vuol dire operatore che ho sbloccato l'operatore no esegui tre uccisioni operatore eh ma non lo so poi d'accovacciato non lo so comunque c'era un ma non lo so che cazzo vuol dire ah boh mo vediamo mo vediamo non lo so ce l'ha scritto così poi io non so se è possibile operatore non operatore non lo so comunque ce l'ha scritto così sai non lo so ce l'ha scritto così esegui quello quell'altro operatore eh vaffanculo comunque ce l'ha scritto così operatore ma secondo me non ho sbloccato niente ma boh poi comunque ho letto qualcosa poi polassica e ripeto ho sbagliato che cazzo 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 ma chi sono questi che sparano? oh ma muori stronzo vaffanculo muori colpo in testa ma muori no minchina quello colpiti perché è un'arma di merda figarello vaffanculo da me ne vedi eh se sono rossa guarda qua guarda questo guarda questo come godo 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 eeeh macarena come godo come godo come godo come godo eh non ci zingarello troppo bello però ma speravo che ho sbloccato sto Warframe così ci vuole anche un altro regalo oggi visto che è il mio compleanno vi faccio un po' di regalini Faccio un po' di regalini, ci vuole un po' di regalini U.A.V. alleato online Un po' di regalini Controlliamo anche Un po' di regalini 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 bella dai 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 minchia in testa l'ha chiappato volevo vedere cosa mi ha sbloccato perché ce l'ha scritto operatore tre colpi tre nemici sbloccati tre nemici morti con da sdraiato ma non lo so ce l'ha scritto operatore poi non so se ho letto bene o ho letto male comunque tanto io me la guardo di nuovo la live tanto io adesso poi lo pubblico su youtube in teoria ce l'ha scritto così poi non so che cazzo vuol dire è la merda perché non lo so comunque qualcosa ce l'ha scritto qualcosa l'ho sbloccato perché non è passibile che non l'ho sbloccato poi vuol dire che ho sbloccato un colore non lo so qualcosa mi ha dato sicuro a 100% perché l'ho letto io prima ce l'ha scritto in azzurro in azzurro ce l'ha scritto colore vedo mi ha sbloccato un cazzo ma che ne so allora che cazzo mi ha sbloccato questo scemo ma cosa sta l'ho accetta chi è questo? decrepit vedi vabbè è scemo mi ha detto sbloccato un cazzo allora aspetta un attimo è stupido fai un attimo a dare una cosa ma non lo so ma l'ho letto male vedi ho letto male cosa sta l'ho ti diamo il benvenuto su Asira Island che cazzo vuol dire è solo da questa isola di rete canali come si fa? rovine dopo guerra molto altro ma dove? ma dove si trovano? e dove si trovano ste cazzo di cose? ah? ah? cazzo quante monete mi ha dato? una sto stronzo sta 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 allora intanto mi ha dato ah sblocchiamoci questo intanto va così ce lo arriviamo da cazzo eh eh infatti però aspetta voglio vedere se ho questo ah la moneta eh c'abbiamo questo questo l'ho già preso? no questo si l'ho fatto l'ho fatto tutto allora eh? ma no aspetta no ma questo l'ho già preso cazzo dico aspetta allora la nave allora c'è questo no il fucile l'abbiamo preso questo l'abbiamo preso quindi questa roba minchia c'è la moneta c'è la moneta gratis cazzo prendiamo la moneta la moneta eh 100 xp minchia buono buono quante ne ho? quanta moneta c'ho? eh dovrei averne un po' adesso no? in teoria in teoria si modificare in teoria ne dovrei averne un po' però non lo so quanti adesso vediamo aspetta eh ne abbiamo un bel po' eh? non lo so dovrei averne un po' in teoria ho detto non è che ne ho tante però qualcosa mi ha dato il gioco vediamo quanta moneta c'ho allora quanta moneta c'ho? minchia ne ho 400 400 moneta non mi da un cazzo con 400 monete porco puttano costardo eh? un cazzo perché sono poche sciacalle un sciacalle un sciacalle merda eh minchia 2400 un poche 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 eh sono pochine eh cosa vuoi? è normale 1600 vedi quanta moneta quanta roba ti chiede un sciacalle però mi compro qualcosa qualcosa mi compro più avanti sicuramente beh lo stone warfare questo me lo voglio comprare cos'è questo? come si chiama sto warfare? vedere? dai bugia però fa schifo mi piace mi piace mi piace però mi fa un po' male all'orecchio sai? mi fa un po' male all'orecchio questa cuffia mi fa male all'orecchio perché c'è il dilatatore nell'orecchio e mi sbatte contro il dilatatore e mi fa male tutto qua minchia che male che male cazzo mi fa male all'orecchio minchia minchia mi ha fatto male all'orecchio se è stato sta cuffia eh e avendo il dilatatore eh perché io ho gli orecchini quelli grossi eh il dilatatore quelli da 10 cazzo la puttana misera mi fa male dietro il lobo cazzo eh no minchia mi fa male qua minchia sentivo Donato ma che cazzo è? ah eh minchia che male aspetta riesco a far entrare anche il lobo è meglio se riesco a far entrare l'orecchino è meglio perché se no così mi faccio male devo toglierlo per forza se voglio giocare eh adesso vediamo se riesco a far entrare l'orecchino qua dentro allora la faccio entrare così perché se no mi faccio male capito vediamo un po' eh come cazzo si aprono se cuffie porca puttana ci sarà una maniera no? ah così ok così e così adesso le apro faccio così come cazzo si chiudono oh mamma mia eh perché sono nuove non so ne come funzionano se cuffie ah boh eh facciamo così l'unica maniera l'unica maniera per allargarla un po' se no mica mi faccio male cazzo ah ah boh porca puttana aspetta un po' come cazzo si aprono se cuffiette ah ok così così non si capisce un cazzo aspetta un po' ma come cazzo si aprono se cuffie ah no facciamo così ma non c'è una maniera un pulsante un qualcosa un click boh che cazzo non so ma si però è un po' scomodo aprirlo eh eh un po' cazzo al livello 1 al livello 1 e 2 facciamo così al livello 2 questo al livello 1 e 2 facciamo così proviamo a vedere così no no se no mi faccio male cazzo ah e cazzo mi faccio male all'orecchio aspetta un po' livello 1 boh 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 livello 1 facciamo così livello 1 va bene così dai forse così non mi faccio male forse non lo so speriamo di no speriamo di no perché diventa più morbida no se no mi spacco l'orecchio cazzo cosa hai fatto? odio buono? no grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Riscuoti i codici, aspetta che ho i codici da svuotare di Call of Duty. Eeeh, dammi tempo cazzo, non riesco a riscuotare, ho visto i cazzo di codici, porca puttana, riscuoti i codici di sto cazzo. Eeeh, riscuoti sto codice, dovrebbe darmi i codici, adesso usciamo, usciamo, dovrebbe darmi altri XP. Eh, XP di un'ora, XP, XP, poi cosa mi ha dato? Routerman JetPipe CC. Ma che cazzo è? Ancora 70%, vai al canale, eh, vai al canale, vediamo un attimo. Buona, like, ha finito. Mo' vediamo. Ma dovrebbe darmi il drop. Mo' vediamo. Qualcosa mi ha dato? Allora, vediamo cosa mi ha dato. Allora, mi ha dato, non lo so, ma vediamo, aspetta. Mi ha dato, XP un'ora, XP un'ora, poi mi dà l'emblema e un Routerman, Routerman, secondo me è una roba da, tipo quel disegno che quando tu giochi lui ti dà quel disegno, quello giallo che c'ho io. E' uno screenshot lì, uno screensaver lì, una roba di bellezza che quando tu accendi si vede un disegno da mettere nella schermata di iniziale, penso che sia quello perché altra roba non so che cazzo è. XP me l'ha dato di un'ora, XP, un'ora. Mo' la like ha? XP un'ora c'è scritto. Eh, c'è scritto così, XP, XP. Che cos'è sta roba? Con la stagione 2 è arrivata tutta la novità, modifica che riguarda l'organizzazione, denaro, bottino, equipaggiamento è molto alto, scenario, codice, QR, assai, saperne di più. Sì, ma non capisco dove è. DM. Eh, non so dove. Non facciamo sta battle royale. Cos'è questo? Mini royale terzi Battle royale coppie Sì, coppie Terza persona Battle royale Terzi, battle, coppie Aspetta un attimo Vado a mangiare, vado a mangiare. Ragazzi, niente, facciamo una cosa. Io stacco qua. No, veramente, guardiamo solo se mi ha dato un attimo la XP. Così mi guardo anche la live. E poi, buon, basta. Cos'è sta roba? Aggiornamento per DMZ. Ma va? Oltre un classico aggiornamento, la stagione stagionale, la stagione 2 è arrivato a diverse modifiche. DMZ. Tra queste troverai aggiornamenti relativi a regolazione dei nemici. Regolamenti, regolazione dei nemici, punti di ingresso, regolazione della difficoltà della missione e molto altro scenario codice QR. Di più di cosa? Stronzo. Regolazione dei nemici. Ma che cazzo? Ma che cazzo dice? Non lasciarti sulle spalle? Cos'è sta roba? Cazzone! Ah, fissessore. Cos'è sta roba? Che bello! Minchia, questo me lo voglio comprare! Questo è il Gus, la skin predifi... bella questa skin. Questa me la prendo. Quanto viene? In soldi? 2400... Non gosserà tanto, penso. Ma ti dà anche il... Ti dà questo? L'arma? E' bella, che ficcata! Bella, bella, non la compro, non la compro la skin. Qualche skin bella ma la devo comprare. Adesso va bene così. Allora, vediamo un attimo una cosa. Visto che lui ha detto... Cazzi e ammazzi, vero? DMZ? Intanto vediamo se mi ha dato l'XP. Vediamo? Uno, minchia, un'ora! Un'ora ne abbiamo due. Poi abbiamo 30 minuti, 30 minuti e più altri XP che sto prendendo adesso. Mamma mia! E poi va avanti tutto il giorno. Ho bruciato lo schermo, ho bruciato. Ah, non lo so. Aspetta un po'. Ah, non lo so. Non lo so, ma guardiamo perché ho paura che non ho bruciato lo schermo. Ah, non lo so. Ma non penso che ho bruciato lo schermo. Arriva, eh! Mi fa un culo, staccalo sto coso. Eh, dai. XP. Boh, io stacco un attimo che vado a mangiare. Casomai mi collego su YouTube un po' dopo. Allora, due ore, due ore, due ore, due ore. Boh, vabbè. Niente. Ah, vediamo un attimo cosa dicono. Qua dice DMZ. Cosa ha detto DMZ. Vediamo un po' cosa dicono. Allora, facciamo finta di fare la missione. Cosa c'ho? 30 minuti. 30 minuti. Un'ora e un'ora. Minchia, un'ora è buono. Eh, cazzo. Facciamo finta di giocare. Ebbè? E cosa ti dà? Ebbè? Ebbè? Modifica missione. E cosa mi dà, scusa? Modifiche di qua, modifiche di là. Cazzi e mazzi. Ebbè? E cosa mi dà, scusa? Tutte cazzate. E io vedo tutto uguale, vedo. Vedo tutto uguale. Non vedo tanta differenza da prima adesso. Ebbè? Cosa mi dà? Un cazzo. Ah, tutte palle. Tutte palle. Ma per me tutte stronzate, comunque. È vero? Ma secondo me sì. Poi mi sbaglierò, eh. Ripeto. Poi mi sbaglierò, però. A me mi sembrano tante stronzate che dicono. Ma poi non lo so. Boh, ripeto. Non lo so. Boh, ripeterò e cambio. Non lo so. Boh, io ripeto. Non lo so. Però può essere che... Per me è tutta scena. Cosa è sta roba? Un fucile nuovo. Dai, ma cazzo. Fucile da battaglia qua. Ma qual è? Che fucile è questo? Non lo so. Non mi dici neanche il fucile. Fucile d'assalto. Quale c'è? Ma scusa, avevo il mio fucile. Dove cazzo sta? Stai, dove viene? Vediamo poi i colori. Che non ho sbloccato i colori. No, ho sbloccato un cazzo. Scusate la parolaccia. Però me ne mancano due, eh. Me ne mancano ancora due. Ah, vedi che è qualcosa sbloccato. È un po'? Eh, penso di sì perché qualcosa già mi dice che ho sbloccato. Mo' vediamo. Ah sì, vedi? Aspetta un po'. Ah, vedi? Aspetta, aspetta. Esegui cinque uccisioni dietro usando un'arma. Questo cos'è? Esegui dieci coppie di uccisioni usando l'arma M4. Minchia, buono. Esegui dieci doppie uccisioni. Usando l'arma. Minchia, buono. Quest'arma qua devo usarla perché a me non mi dà... Ah, vedi? Ti deve dare questo. Dopo mi dà questo. Eh, dopo mi dà un emblema. Mi dà una cosa. Eh, mi deve dare le ricompense. Ma sto guardando la live. Eh, devi dare i tempi che la live ti dà le tue ricompense. Vieni, go! Come si fa? Ma come si fa a togliere? Rimuovi tutto. Perché si toglie? Porca pittà. Oh, Santa Maria. Però poi qui, volata. E... Ma... 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 Ma aspetta il manico, toglilo questo. Metti questo. Sì Anche questo andava bene Anche questo è bello Anche questo è un bel colore A me piace però anche blu Ma cambiamo un po' dai Mostra Ma si si mettiamo questo Però rimuovi e facciamo così di nuovo Perfetto Perfetto Tanto io stacco un attimo vado a mangiare Casomai mi ricollego su youtube Adesso io devo mangiare Non posso non mangiare Stordente Tanto equipaggio tutto Dopo mi faccio una piccola live su youtube Così condivido anche questa Partita su youtube Che non l'ho condivisa Colpi di carro o no Munizioni normali Va bene niente ragazzi conferma Però aspetta Ok esci esci No 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 esci esci Questo che cos'è Ah però Aspetta un po' No non ho messo niente vero Ah no ok Tendiamoli tutti questi Perché mi servono I gettoni mi servono Perché sono già 97 Poi il pass mi deve dare ancora delle monete Piano piano facciamo tutto dai Facciamo tutto piano piano Intanto vi ho preso le monetine Le monetine Dove sono? Quelle che ho preso adesso Perché di nuovo male ho Di nuovo male mi fa Sto cazzo di cucchetti Che cazzo fa quella delle cucchetti? Ah la moneta questa Dopo prendo Prendo Questa Questa qua Dobbiamo prendere uno due tre E poi mi sblocco quello Poi piano piano mi sblocco tutto il pass Quindi mi mancano ancora Pochi passi Per arrivare al 100% Dai piano piano le prendiamo tutti Niente ragazzi Un buona serata Buon appetito per chi deve mangiare adesso Alla prossima live Seguitemi su youtube Perché io tra un po' andrò su youtube Mi ricollego lì E se volete seguitemi sui Io fra una mezz'oretta 20 minuti Mi faccio una piccola live Se non mi vedete in diretta Ci vediamo domani Ok? Dai Comunque collegatevi Intanto se rimanete sintonizzati Potete vedermi Giustamente Ok? Dai Alla prossima Ciao Ciao